Salve ragazzi cari amici del web, sono Andrea Bruni, in questo momento mi trovo in Indonesia, a Jakarta, all'interno di un negozio bellissimo con i colori dell'Indonesia. Facciamo un breve giretto anche per farvi vedere un po' anche a voi questi colori, vestiti molto tipici, allegorici, ispirati alla tradizione popolare. E abbiamo anche la parte oggettistica, anche qui molto bella, sempre ispirata alla tradizione popolare, al culto religioso, guardate qui che bellissime queste statue, veramente impressionanti, la loro fattezza è veramente scorcentante. Qui abbiamo altra oggettistica. Qui abbiamo la riproduzione della frutta. Qui abbiamo delle gallinelle belle, colorate. Delle bellissime statue interziate in legno.